Io e i miei compagni ci conosciamo da sempre, però ognuno si fai fatti i suoi. Tipo lei, Marianna, che si crede un po' Miss Universo e pensa che tutti li vadano dietro. Attenta che lo buchi in libro così. Almeno io un libro so cos'è. E questo è Livia, Miss Perfettino. Oh, comunque ciao, eh. Il suo passatempo preferito è rompere. Ah, e poi ci sono quelli della terza D, come Matteo Grimaldi, il grimo. Che si sente forte solo perché se la prende con i più deboli. Prendilo, dai. Mi cadi proprio in basso. Cinque contro uno. E quindi? Fatti fatti i tuoi. E finché ci siamo noi, è la terza D che comanda qua. Ah, e allora sarà meglio non farvi bocciare. Che hai detto? Primo. Oggi vi è andata bene. Eh sì. Miss Perfettina sta con lui. Crede che sia un bravo ragazzo. Grazie. Grazie. Grazie.